buongiorno a tutti sono michele 3146 e belle noti boom e carnal al centro god il continuo 18 10 2024 ciao ragazzi come va tutto bene? Allora facciamo subito spinto ho spinto bello ok possiamo eh qua ok 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 e continuo ok 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti.